Cari amici dell'angolo del gameplay, benvenuti, anzi, in questo video che serve a presentare la nuova sezione, a presentare e spiegare brevemente di cosa si tratta questa nuova playlist. Come potete leggere dal titolo, racchiude semplicemente le scene tagliate o scene di un let's play che non verranno mai pubblicate. Solitamente, quando registro un let's play, tutto ciò che registro viene caricato interamente, quindi non sarà una sezione molto molto folta, però capita a volte che registro delle puntate che poi invece interrompo a metà per vari motivi e che non vengono poi ovviamente messe sul canale. Questa sezione serve appunto per queste puntate che io non pubblico, che magari provano delle piccole pelle o comunque sono carine da vedere e mi dispiace comunque buttarle via, diciamola così. Quindi io le riutilizzo per pubblicare le riutilizzo pubblicandole, scusate, in questo playlist qui. Direi che è già tutto, in realtà non c'è nulla da dire, sono semplicemente cose tagliate, prendetele così. Non è detto che un let's play che vedete qui, che è un gioco che vedete qui, venga poi pubblicato, quindi potete chiedermelo magari se vi piace molto, potrei rifarlo e effettivamente pubblicarlo, ma comunque serve semplicemente proprio per le cose che ho registrato e non voglio sprecare completamente, quindi le riutilizzo in questo modo. Buona visione a tutti!